1941 Usa Il congresso approva la dichiarazione di guerra contro il Giappone 1965 Papa Paolo VI chiude il concilio ecumenico Vaticano II 1980 New York Assassinato John Lennon Commenta il fatto del giorno Roberto Papetti, direttore del Gazzettino Oggi parliamo di uno dei più grandi scrittori veneti e italiani, Goffredo Parisi Un saluto Un saluto Un saluto